C'è un pacco sospetto abbandonato su una panchina. Sarebbe questa la segnalazione giunta ai carabinieri questa mattina, poco dopo le 9. Così si è diffuso l'allarme bomba a Pescara, che ha attivato il protocollo delle forze dell'ordine. È successo in Vietalica, all'altezza della scuola alberghiera De Cecco, da un lato della strada, e dell'istituto Ravasco dall'altro. Sul posto, oltre ai carabinieri del comando provinciale di Pescara, anche i vigili del fuoco, Polizia Municipale, gli agenti della questura e l'assessore comunale alla sicurezza Adelchi sul Pizio. Lezioni sospese, scuole evacuate e strada chiusa al traffico, mentre gli artificieri dell'arma di Chieti facevano brillare il pacco sospetto, che è stato effettivamente trovato su una panchina tra i due istituti. Una confezione in cartone, chiusa con del nastro adesivo, che all'interno conteneva delle batterie e un telefono cellulare. Nessuna bomba, quindi, ma solo uno spavento per studenti, personale scolastico e i genitori che stavano accompagnando i propri figli a scuola. Al momento non sono chiare le dinamiche di come il pacco si è arrivato su quella panchina, se sia stato dimenticato o se sia stato invece lasciato volontariamente, con l'intenzione di mandare un qualche tipo di messaggio, per creare scompiglio o semplicemente per uno scherzo di cattivo gusto che ha creato disagio nel centro città. Nel giro di un paio d'ore tutto è tornato alla normalità, via Italica è stata riaperta al traffico e gli studenti sono tornati sui banchi.